Quando si parla di computer chiunque vorrebbe qualcosa di unico ed inimitabile per la propria configurazione e fin qui si sta, ci mancherebbe, ma alcuni passano oltre, arrivando a desiderare 70 porte USB, il supporto a 116 schede video, LED sbrellucicanti in ogni dove o anche soltanto il logo della ROG spiccicato da qualche parte, giusto per far vedere quanto sono cazzute le proprie componenti pro gamer. Beh gente, sappiate che deliri sboroni a parte, a costo di cascare nell'ovvietà più assoluta gli elementi davvero importanti in un computer sono tutt'altri e in primis, parlando di schede madri, visto che è l'argomento di oggi, uno che viene purtroppo tralasciato davvero dalla stragrande maggioranza degli utenti e che va a toccare l'argomento VRM, ovvero le fasi di alimentazione. E qui prima che veniate a dirmi, oi doc, sai che hai già trattato l'argomento VRM in passato? Che fai di cognome Alzheimer per caso? Mio nome vero è Alzheimer. Helmut Alzheimer. Sappiate che sono pienamente consapevole di aver già trattato l'argomento nel video che tra l'altro trovate linkato qui sotto in descrizione e qui sopra on screen. Tuttavia, essendo stato quello un episodio abbastanza molto tecnico direi sotto certi punti di vista, alcuni utenti si sono detti in difficoltà con alcuni dei suoi contenuti giudicati a tratti appunto troppo tecnici e quindi difficilmente comprensibili da un pubblico diciamo livello zero. Pertanto, quest'oggi ho deciso di tornare nuovamente sull'argomento affrontandolo in maniera differente e anzi in chiave super easy. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico clic, ma per noi significa veramente tantissimo. Ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto iniziamo col dire che con l'acronimo VRM si intende Voltage Regulator Module, ovvero Modulo di Regolazione del Voltaggio, vale a dire quell'elemento che, in una scheda madre, si occupa di modulare, di gestire la tensione in ingresso dall'alimentatore del computer, dall'alimentatore principale, al fine di renderla digeribile da tutte le varie sottocomponenti. Processore, RAM, scheda video, PCI e via discorrendo. Questo perché? Perché se così non fosse, sarebbe come se voi provaste a bere dalla manichetta di un idrante antincendio. Complimenti Chris, mi hai fatto bagnare la camicia! Ecco, capite che insorgerebbero non pochi problemi e seppure in questo caso si parli di elettricità piuttosto che di acqua, il concetto alla base è esattamente lo stesso. La tensione in uscita dall'alimentatore è infatti troppo alta per le componenti del vostro computer e quindi per evitare danni irreparabili, ecco che intervengono a monte i VRM modulando, modificando la tensione che arriva a 12 Volt a un intervallo solitamente compreso tra 1,1 e 1,3 Volt. Next, parliamo di fatti, e non intendo tossicodipendenti, e andiamo a dare un'occhiata più da vicino ai nostri VRM. Anzitutto definiamo, attenzione, che non si tratta di un singolo elemento, bensì di un insieme di componenti che, congiuntamente, vanno a comporre quello che noi definiamo come VRM, ovvero MOSFET, CHOX e CONDENSATORE. I MOSFET si trovano solitamente a coppie sulla scheda madre e hanno il compito di accendersi e di spegnersi in maniera continua e alternata permettendo il passaggio, oppure no nel caso siano chiusi, della corrente elettrica. Un po' come banalmente gli interruttori, quelli per le lampadine che avete in casa, sulla falsa riga di quelli, insomma. I CHOX, invece, termine il quale deriva dall'inglese e significa letteralmente strozzatura, strozzare, sono effettivamente quegli elementi che vanno a modulare il flusso di tensione in ingresso portandolo al valore desiderato dalla X componente in questione, come ad esempio il processore. I CHOX, infatti, caricandosi e scaricandosi costantemente di energia elettrica, vanno a generare un campo magnetico che si oppone ai 12 volti in ingresso dall'alimentatore, quelli di cui parlavamo prima, facendo da barriera tutti gli effetti e lasciandone passare oltre solo una determinata percentuale. Infine, i condensatori, i quali svolgono un'azione di filtraggio andando a sopprimere gli eventuali picchi di corrente che potrebbero a tutti gli effetti andare a danneggiare le componenti del nostro computer. E quindi, gente, definito da che cosa sono composti i nostri VRM andiamo a parlare degli elementi, due in realtà, che li governano, che li coordinano. A monte di tutto, alla base, c'è i BIOS, vale a dire l'anima intrinseca di ogni computer, all'interno del quale, tra le sue migliaia di funzioni, sono anche presenti i settaggi relativi alle varie tensioni da erogare a tutte le componenti del nostro computer, le quali, all'accensione di quest'ultimo, vengono istantaneamente comunicate ad un particolare circuito integrato nella scheda madre stessa, denominato controller PWM, il quale, a sua volta, nuovamente, va a comunicare questi valori, questi settaggi, ai VRM, nel mentre che ne coordina attivamente il funzionamento. E qui fermi tutti, perché seppure questo sia effettivamente una spiegazione molto più semplice di quella che avevo dato nel video precedente sui VRM, di fatto è possibile rendere istantaneamente il concetto tramite il banalissimo esempio di una diga. Tralasciando il suo funzionamento tecnico, il quale non è assolutamente appannagio mio, mettiamo appunto il caso, mettiamo appunto l'esempio di una diga artificiale, una di quelle classiche che si vedono cingere, non so, i laghi, per farvi un esempio molto banale. Al suo interno sarà ovviamente presente un mega direttore galattico in stile fantozzi che coordina tutto quanto a 360 gradi dal funzionamento alla messa a punto alla parte tecnica, e quindi, nel nostro caso, il BIOS. E subito sotto di lui, sulla linea di comando, ecco che avremo un direttore di produzione il quale coordina il lavoro del personale, gestisce i reparti e monitora fondamentalmente l'attività giornaliera di tutti i giorni, e quindi, nel nostro esempio, il controller PWN. Seguono gli operai e quindi la manovalanza che lavora o non lavora a seconda delle direttive e senza la quale non si avrebbe fondamentalmente il funzionamento dell'impianto, ovvero i MOSFET. Next, la diga stessa, la quale, grazie alle sue pareti, si oppone alla forza dell'acqua del, mettiamo caso, lago che sta a monte, impedendo la discesa fragorosa e distruttiva delle sue acque a valle, e lasciandone soltanto fuori uscire una determinata quantità, e quindi i CHOX. In ultimo luogo, chiudono la coda i serbatoi idrici, i quali raccolgono il flusso d'acqua in uscita dalla diga, convogliandola all'interno di se stessi, e permettendone l'erogazione continua e controllata anche soltanto, ad esempio, dal rubinetto di casa vostra, e quindi i condensatori. E quindi gente, questo è quanto, io spero vivamente che con questo video completivo l'argomento VRM sia stato definitivamente compreso ed abbracciato da tutti voi, esperti e non, ma ovviamente attendo un vostro feedback, fatemi sapere che cosa ne pensate, l'argomento vi è ora chiaro, l'esempio della diga vi è stato chiarificatore, ma soprattutto, avete visto la luce? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e come sempre se il video vi è piaciuto ricordatevi di spalliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata, la settimana prossima, giovedì alle 12.30. Non cambiate canale! Grazie a tutti! Ciao!